Buongiorno a tenere l'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Noi siamo qui per leggere la Sacra Scrittura e noi continueremo quest'oggi la lettura della prima lettera di Giovanni. Noi leggeremo il capitolo 4, capitolo 5 e leggeremo anche la seconda lettera. Quindi in questa puntata finiamo una lettera e incominciamo l'altra. Finiamo prima lettera di Giovanni e leggeremo anche la seconda perché è abbastanza breve. Quindi andiamo prima Giovanni capitolo 4 e capitolo 5. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figliuoli, e li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo non li ascolta. Allora, versetto 1, Giovanni capitolo 4, versetto 5, lo ripeto. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Carissimi, amiamoci gli uni agli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio che Dio ha mandato suo figlio unico nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio ma che Egli ha amato noi e che ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propisiatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati anche noi dobbiamo amarci gli uni agli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni agli altri Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui e Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniato che il Padre ha mandato il figlio per essere il salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché qual Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che Dio che ci ama, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Primo Giovanni capitolo 5 Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da Lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Cristo non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono le cose che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue. E i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore. E la testimonianza di Dio è quella che ha reso al suo figlio, al figlio suo. Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio figlio. E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna. Voi che credete nel nome del figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi e Dio gli darà la vita. A quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte e non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato, ma c'è un peccato che non conduce a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, ma colui che nacque da Dio, Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figliuoli, guardatevi dagli idoli. Ora leggeremo seconda lettera di Giovanni, capitolo 1, parola del nostro Signore. L'anziano alla Signora è letta e ai Suoi figli che io amo nella verità, e non solo, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia e misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio, Padre e di Gesù Cristo, il figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i Tuoi figli alcuni che camminano nella verità secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora ti prego, Signora, non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin dal principio, amiamoci gli uni agli altri. In questo è l'amore che camminiamo secondo i Suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin dal principio, poiché molti sedutori sono usciti per il mondo i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù è venuto in carne. Quello è il sedutore e l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il padre e il figlio. E se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Avrei molte altre cose da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta e inchiostro, perché spero venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la vostra gioia sia completa. I figli della tua eletta sorella ti salutano. Parola del Signore. Quindi abbiamo letto gli ultimi capitoli di prima Giovanni. Abbiamo letto il primo e unico capitolo di seconda Giovanni. E ti do l'appuntamento per domani, perché noi possiamo leggere terza Giovanni e poi anche l'epistola di Giuda. Che il Signore ti benedica nel nome di Gesù. Ciao. 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 Ciao.